Grazie a tutti e a tutti per la partecipazione, grazie a tutti i colleghi dell'informazione che hanno voluto con noi essere presenti oggi a questo evento. Ci dispiace che la location sia piccola, però le aspettative che avevamo erano in qualche modo forse minori e vi avremmo accolto meglio se avessimo potuto. Come sapete il tema all'ordine del giorno è il ponte sullo stretto di Messina, un'opera colossale che costa molti soldi, che toglierà soldi a altri motivi di sviluppo in territori particolarmente gravati da condizioni particolari, pensate alla crisi dell'acqua o alle alluvioni che abbiamo visto nei giorni passati, che avranno meno risorse per sviluppare quelle infrastrutture, un'opera che ha sollevato tanti dubbi tra esperti, ingegneri, tecnici del settore che meriterebbe una riflessione molto più attenta perché fa tremare le vene ai polsi immaginare che con tanta superficialità si continui a dire che va tutto bene e non è così. Un'opera che vede una sequela di norme violate, dalla normativa comunitaria sulle gare d'appalto al progetto esecutivo che non sarà fatto ma sarà fatto a spezzettoni con tante tante difficoltà. Però noi abbiamo pensato di provare a aprire questa conferenza stampa in un modo diverso. Siccome abbiamo un ministro che continua a fare dell'ironia il suo maggiore elemento di comunicazione ha dichiarato l'altro giorno che sperava che pesciolini, alghe e uccellini permettessero la realizzazione del ponte noi vorremmo far vedere al ministro che c'è un problema un po' più grande di quello che racconta e quindi invito a fianco a me Rossella Bulsei di Villa San Giovanni che invito a sedersi con me e Mariolina De Francesco di Messina che invito a sedersi con me, vicino a me che sono le prime vittime di questa scellerata decisione. Nel senso che ti chiedo di metterti di qui che poi lasciamo intervenire le persone che sono le prime vittime di quello che sta succedendo perché sulla loro pelle è già sceso la scure dei vincoli sugli immobili e stanno perdendo il patrimonio, la possibilità di spostarsi e soprattutto non avere un'idea di quale sarà il loro futuro. Quindi io lascerei la parola a Rossella, 5 minuti per raccontarci che cosa ci sta succedendo sul territorio poi Mariolina e poi apriamo la conferenza stampa. Grazie. Grazie e grazie a tutta l'organizzazione di questa conferenza stampa perché è un momento molto delicato che in realtà per noi è un periodo protratto esattamente dal dicembre del 2023 quando viene ricostituita la società stretto di Messina che riaccende dentro le case di tutti i destinatari di esproprio la preoccupazione, l'ansietà e soprattutto il dubbio su quello che sarà il futuro. Gli espropriandi in questo momento portano la loro voce a Roma. Noi abbiamo costituito a Villa San Giovanni un comitato spontaneo di destinatari di esproprio che non sono solamente i proprietari degli immobili che in questo momento hanno un gravame di vincolo espropriativo ma anche tutti i cittadini di Villa San Giovanni che dovranno subire gli otto anni di cantiere e che vedranno cambiate completamente le loro abitudini di vita. Però mi preme moltissimo perché finora i destinatari di esproprio sono stati considerati e trattati come gli ospiti scomodi che devono lasciare uno spazio libero per qualcosa di più grande. In realtà io voglio focalizzare l'attenzione su quei quadratini gialli che sono disegnati sulle tavole di progetto distretto di Messina che per loro sono dei semplici immobili degli edifici che devono essere demoliti. Dentro quei quadratini gialli ci sono delle famiglie, dentro quei quadratini gialli ci sono dei minori che hanno diritto di avere una vita serena, che hanno diritto di poter condividere con la loro famiglia la loro sicurezza e la loro serenità. Vedete non è facile vivere dentro una casa che si è deciso di fare la culla, la sede della propria famiglia e a un certo punto doverla vedere come qualcosa di estremamente precario. Credo che tutti quanti voi sappiate che la casa rappresenta il luogo della sicurezza, che la casa rappresenta il luogo degli affetti, invece all'improvviso la casa diventa qualcosa di precario alla mercè della decisione di altri e che mette in dubbio quei punti fermi che ciascuno di noi con il proprio lavoro mette sulla sua vita. E allora chiedo a tutti quanti voi di domandarvi se all'improvviso vi dicessero guarda casa tua occupa uno spazio che serve ad altri e che questo spazio peraltro dovrà essere liberato senza nessuna sicurezza, che quello che dovrà essere costruito sia garantito e che sia veramente un beneficio per qualcuno. Sicuramente del ponte saranno state dette delle cose grandiose, saranno stati fatti mille esempi di vantaggi, di utilità. Bene, il ponte non dovrebbe produrre alcun danno secondo chi lo sta propagandando in maniera così appassionata. Ebbene, il ponte sicuramente produrrà dei danni, li sta producendo già adesso alla serenità delle persone che vivono in quelle case, alla capacità materiale di poter godere del proprio diritto di proprietà dell'immobile che già in questo momento è stato annullato dal vincolo espropriativo e soprattutto sarà comunque un danno perché arrivare all'esproprio delle abitazioni significa mettere la parola fine all'esistenza ordinata delle persone che saranno colpite da questo provvedimento. E allora io mi domando da cittadina, io non voglio fare qui alcun intervento di tipo tecnico, non voglio fare la giurista, non voglio fare l'ingegnere perché non sono queste le mie competenze. Però io devo fare assolutamente qui un intervento da cittadina, da cittadina italiana, da cittadina che vota, da cittadina alla quale si chiede un consenso. Allora io mi domando davvero come posso io pensare che il sacrificio di casa mia possa essere utile all'Italia o peggio ancora possa essere utile a Villa San Giovanni o a Messina? Quando sappiamo, perché abbiamo tutti studiato, ci stiamo tutti documentando in maniera febbrile, quando sappiamo che i pareri positivi quando anche sono stati dati sono stati tutti dei pareri condizionati prima da raccomandazioni, poi da osservazioni, adesso da prescrizioni. Chi mastica un pochino la terminologia di queste cose sa benissimo di che cosa sto parlando. Quando sappiamo che quest'opera poggia a Villa San Giovanni su una faglia sismica e sappiamo che Villa San Giovanni è stata colpita insieme a Reggio Calabria a Messina nel 1908 da un terremoto terribile, sappiamo che Messina ha problemi di approvvigionamento d'acqua, sappiamo che quest'opera nasce di per sé già profondamente vincolata e allora io cittadina italiana cosa devo pensare? Che casa mia dovrà essere demolita, dovrà essere abbattuta per qualcosa che potrebbe a un certo punto fermarsi non solo per le ragioni giuridiche di cui siamo tutti a conoscenza, ma anche perché sarà la natura a fermare quest'opera. Quindi questo sacrificio che si chiede ai destinatari di esproprio a che pro? E io che dovrei abbandonare casa mia, dovrò abbandonare anche la mia città, quindi Villa San Giovanni per esempio, che qui mi sento di difendere veramente in maniera appassionata, Villa San Giovanni è una città che sarà tagliata in due, è una città che sarà ridisegnata secondo quello che abbiamo visto nelle tavole progettuali, è una città dove ci sono fortissime interferenze, quindi la città di Villa San Giovanni qualora effettivamente, perché diciamo che l'ipotesi è abbastanza delineata, che l'opera si possa fermare e diventi un'incompiuta potrebbe rischiare l'esodo dei suoi cittadini, i cittadini di Villa San Giovanni potrebbero davvero non solo perdere casa ma cambiare anche città. E allora tutto questo, io ci tengo in questo momento a dirlo perché probabilmente qui nei palazzi romani non è arrivata questa emergenza sociale che esiste a Villa San Giovanni, sono 150 le case che a Villa San Giovanni dovranno essere spropriate, 350 dovranno essere spropriate a Messina, su questo ponte grava anche l'incognita enorme dei cavi che potrebbero non essere sufficientemente resistenti a mantenere il peso, di una piastra di ancoraggio che a Villa San Giovanni ricadrebbe addirittura su un'area di integrazione storico e archeologico. Quindi di fronte a tutte queste evidenze, queste sono evidenze dei fatti, non sono fantasie, non sono pettegolezzi, non sono chiacchiere, sono cose reali che a Villa San Giovanni si possono andare a vedere tranquillamente, che io conosco molto bene, alle spalle di casa mia c'è l'intubata di Cannitello, l'ecomostro che è stata la prima opera che è costruita ormai 12 anni fa, che è cresciuta alle mie spalle, è costruita di notte e adesso sfregge il territorio. Quindi io da cittadina esproprianda non riesco ad accettare che di fronte a un'opera del genere si possa davvero ignorare tutto quello che gravita intorno a quest'opera, tutto quello che i cittadini subiranno in conseguenza di una eventuale cantierizzazione. Io non sto parlando della realizzazione dell'opera, perché se l'opera potrà essere realizzata o no, non sono io a doverlo dire, certamente quest'opera non ricade su un territorio desertico, ma rischia di crearlo un territorio desertico e allora di fronte a tutti i problemi che esistono nel meridione, di fronte a tutti i problemi che ci sono a Villa San Giovanni e di fronte alle esistenze che sono all'interno di quelle case io mi domando, scusate ma il momento è veramente pesante, noi stiamo vivendo mesi di grande preoccupazione e di tensione, vi assicuro che non è facile vivere questi giorni, però io mi domando e forse anche un invito che faccio a chi prende le decisioni in questo Paese, non è forse più utile intestarsi il merito di un piano infrastrutturale concreto, di un piano infrastrutturale che restituisca alla Sicilia e alla Calabria le opere di cui ha realmente necessità e invece di chiamarle opere propedeutiche, opere compensative, perché non le chiamiamo opere prioritarie per lo sviluppo del Sud di cui tanto si sta parlando? Lo sviluppo del Sud non passa dal ponte, lo sviluppo del Sud passa per le opere che il Sud sta reclamando da decenni e che le città di Villa San Giovanni e Messina hanno già individuato, quindi scusate, io veramente mi alzo in piedi per dire questa cosa, io invito veramente i signori del Governo, invito i signori del Governo a riflettere su questa cosa, perché qualunque opera infrastrutturale produce lavoro, qualunque opera richiede degli operai, richiede dei materiali, allora veramente pensate ad un vero new deal, un new deal concreto che passi veramente dalle opere necessarie, prendetevi questo merito, non assumetevi, vi prego la colpa di realizzare un'opera che potrebbe non arrivare mai alla conclusione e desertificare due città in uno scenario naturalistico come quello dello stretto che è unico al mondo. Grazie. Grazie Rossella e adesso noi attraversiamo metaforicamente lo stretto e andiamo a Messina con Mariolina. Buonasera. Mariolina ti chiede cinque minuti, scusate ma siamo in tantissimi. Condivido completamente quello che ha detto Rossella in questo momento, sono d'accordo con lei completamente. Io volevo aggiungere soltanto una cosa, a Messina, nella zona nord di Messina dove dovrebbero avvenire questi espropri, è la zona residenziale per eccellenza, è una zona bellissima, fortemente antropizzata, ricchissima di case, 300 case abbattute, forse sono poche, saranno 350, anche perché si devono considerare anche le case che si trovano lungo la strada, perché da noi il problema grosso è rappresentato anche dalla galleria, una galleria che dovrebbe partire da dove sbarca il treno dal ponte fino alla strazione centrale. Sono 17-20 km che devono essere demoliti nel sottosuolo per fare posto a questa galleria che trasporta il treno. Quindi è tutta la città che viene ad essere debolita. La parte di Torrefaro dove io sono espropriando assieme a 4-5 condomini, soltanto in quella zona siamo più di 100 case che vengono demolite, quindi parlo di un migliaio di persone, fino a un cimitero che è in cima alla collina. In questa zona, che è una zona di pregio naturalistico, ricade una riserva, ho scritto qua, che è la riserva naturale orientata di Capo Peloro, che nel 2001 la Regione Sicilia ha dichiarato da proteggere. Nella stessa zona, questa che è rappresentata, che è costituita da due laghetti salmastri di pregio, non solo di pregio, ma anche sede di un'intensa attività di molluschicoltura, per cui ci vivono parecchie famiglie su questi due laghi, deve ricadere parte del ponte. Quindi con una devastazione dei due laghetti, ma peccato che la zona è paludosa, quindi fortemente fragile, fortemente instabile, quindi tiene, non tiene, non si sa. Sempre in questa zona c'è la spiaggia di Capo Peloro, che nel 22 è stata dichiarata dal National Geographic che è la spiaggia più bella d'Italia dal punto di vista naturalistico. Finendo, c'è parallelamente alla battigia fra Gansiri e Faro una struttura rocciosa di pregio, perché è antichissima questa struttura rocciosa, che è una ZPS, una zona a protezione speciale. Ecco, tutto questo viene disatteso da questi signori del ponte. Decidono che si deve fare. Ora, io mi domando, è mai possibile arrivare a queste conclusioni, decidere questa cosa. Parlavamo perciò poi anche di Messina, che è in tutta la zona. Perché i cittadini di Messina, i miei concittadini, non avevano capito fino all'altro giorno che questo ponte interessava alla devastazione di tutta la città. Pensavano che era isolato lì nella zona nord e nella zona di Torre Faro. Per fortuna, per una intuizione del comitato no ponte capo peloro, è stato creato un gruppo di siamo tutti esproprianti. Questo comitato ha organizzato un'assemblea, invitando tutti i cittadini di Messina che fossero interessati alla cosa, per avere informazioni, conoscenza di quello che sarebbe successo nella loro città. È stata partecipatissima questa assemblea e col passaparola le informazioni sono aumentate e le persone sono anche se aumentate. Quindi adesso abbiamo una chat dove intervengono persone in maniera veramente importante. Questo anche per sopperire alla mancanza di una informazione da parte della politica locale. Il nostro sindaco, contrariamente a quello della loro città, diciamo che è stato latitante, non è mai stato molto deciso nelle sue parole. Quindi mi permesso di dire questo e noi abbiamo sopperito con questa chat che finalmente ha dato le informazioni che erano necessarie a tutte. Questo voglio dire, voglio finire soltanto con una cosa, volevo parlare di fattibilità ma ne parleranno tutti gli altri, della utilità che diceva Rossella. Ecco, questa utilità non esiste, vogliono dire che è un'opera di pubblica utilità, assolutamente. L'utilità non c'è, c'è tanto per loro l'utilità. Perché non serve ai pendolari che con venti minuti attraversano lo stretto, non serve al turismo, perché è il turismo che è sopra di Roma, le città sopra Roma. Non vengono in Sicilia con la macchina, utilizzano l'aereo, in Sicilia affittano la macchina, fanno il giro dell'isola e se ne vanno a casa. Non serve alle merci, al porto delle merci che ormai non passa più né per il gommato né per la strada ferrata, ma passa con le vie del mare e vie del mare che sarebbero impedite anche, abbiamo saputo recentemente, dall'altezza di questo ponte che impedirebbe il passaggio delle navi da merci e le navi da crociera che le ultime generazioni di navi sono più alte dell'imbalcato stesso. Dico soltanto, lo dico sempre, che se la mia casa dovessi cederla per una cosa seria e cosa seria? Io intendo un ospedale, un ricovero per anziani, un ricovero per bambini malati, cardiopatici, oncologici, io la cederei. Certo non allegramente, la cederei, ma per una cosa del genere sicuramente no. Grazie. Rossella e Mariolina, al Ministro un'indicazione meno ironia perché dietro le sue scelte ci sono le vite delle persone che ci piacerebbe considerasse. Riprendiamo ora... Ti chiedo solo scusa se ti interrompo, però siccome hai nominato il Ministro al quale insomma noi ci rivolgiamo in questo momento, io ho ascoltato molto spesso i suoi interventi e l'ho sentito spesso parlare di figli, ho sentito spesso dire che desidererebbe per i suoi figli un'Italia innovativa, un'Italia moderna dove la visione trasportistica sia assolutamente come dire, green e assolutamente competitiva con il resto del mondo. Volevo ricordare al Ministro Sardini che anche i destinatari di esproprio e anche i cittadini di Villa San Giovanni e Messina hanno dei figli e anche loro hanno gli stessi diritti, principalmente il diritto di vivere in un territorio sano e in un territorio che non rischi di diventare una cattedrale nel deserto. Grazie. Io invece volevo dire al Ministro Salvini che ha fatto un decreto salva casa per aiutare gli evasori facendo un condono edilizio e dall'altra parte sta mandando via, sta deportando migliaia di persone. Ne siamo consapevoli e siamo qui per quello oggi. Pino Gesmundo del segretario confederale della CGL. Proverò a recuperare un po' di tempo perché davvero siamo in tanti e in realtà non ci aspettavamo una presenza anche dal territorio così importante che la dice lunga rispetto alla necessità di affrontare questo tema con la serietà che merita e non con le battute perché questi non sono pesciolini, sono persone, sono uomini, sono donne, sono famiglie, non sono uccellini, non sono alghe. Stiamo parlando di questioni serie. Quando abbiamo fatto l'ultima iniziativa a Messina i detrattori del movimento No Ponte, di chi si occupa di un evicento di questo tipo, hanno etichettato la CGL provando a dire che ci alleavamo con i cavernicoli. Beh, io vorrei dire al Ministro Salvini, a chi pensa che questi uomini, queste donne, queste famiglie sono dei cavernicoli, non li sbagliano, invece sono uomini e donne che chiedono rispetto, rispetto alla propria condizione di vita, rispetto alla propria prospettiva di vita. La CGL sarà a fianco a loro in questa battaglia che è una battaglia di grande dignità. L'ultima di ieri è la CGL che si occupa di una operazione di questo tipo e non si rende conto che è contro il lavoro perché la costruzione di questo ponte creerebbe, siamo passati da 100.000 posti di lavoro, per 80.000, poi 70.000, vedremo quale ricostruiremo. Anche qui vorrei dire ai parlamentari della Lega che si sono permessi di dire questo, che la CGL è certo per il lavoro, per l'occupazione e per la buona occupazione, ma non a qualsiasi costo e non a qualsiasi occupazione, soprattutto rispetto a questa vicenda noi vogliamo fare chiarezza e aprire un riflettore importante rispetto a quello che sta succedendo, altro che cavernicoli. Noi vogliamo affrontare il tema perché abbiamo la titolarità per farlo, perché parliamo di uomini, di donne, cittadini, di lavoratori e lavoratrici alle quali viene messa in discussione la propria prospettiva non soltanto futura di vita ma anche di contesto e attuale. Abbiamo sentito qui le nostre testimonianze e ce ne vogliamo occupare perché noi siamo interessati a che in questo Paese si costruiscono infrastrutture importanti e soprattutto interessati a che queste infrastrutture siano costruite soprattutto in territori che hanno bisogno di infrastrutture, penso a quelli del Mezzogiorno e quindi penso ai territori della Sicilia, penso ai territori della Calabria, non solo ai territori della Sicilia e della Calabria ma un Mezzogiorno che ha bisogno di ridurre i divari e diventare anche quel motore, quel volano che possa dare un impulso di sviluppo complessivo all'intero Paese. Questa opera è sicuramente un'opera inutile, non serve al Mezzogiorno, non serve al Paese, non serve alla Calabria, non serve alla Sicilia. E soprattutto in questo contesto stiamo costruendo un'opera inutile, pericolosa e molto costosa. E siccome stiamo parlando di risorse pubbliche e le risorse pubbliche arrivano attraverso le tasse pagate soprattutto dai cittadini e dai lavoratori dipendenti e dei pensionati in questo Paese, mi permetto di fare un minimo di riscontro rispetto a quello che sta succedendo rispetto all'utilizzo delle risorse. E come ci interessa come CGL, come si utilizzano le risorse pubbliche in questo Paese, come questo Governo, anche direi che questo Governo sta utilizzando le risorse pubbliche in questo Paese, dall'81 al 1997 sono stati spesi 135 miliardi di lire per vari studi di fattibilità rispetto a questa opera. Nel 2013 il Governo Monti liquida la società con 342 milioni fra penali e indennizi, ai quali si aggiungono altri 130 milioni già spesi per gli altri studi di fattibilità. Prende ancora in giudizio, peraltro, una richiesta di risarcimento di Eurolink di 657 milioni di euro. Il totale dei soldi già spesi sul nulla ad oggi si aggira intorno al miliardo e cento milioni di euro. E mi chiedo con un miliardo e cento milioni di euro se magari avremmo potuto risolvere i problemi infrastrutturali della Calabria e della Sicilia intervenendo su opere strategiche, penso alle opere stradali, alle opere ferroviarie, tutto quello che serve. E poi nel 2005 Eurolink si aggiudica la gara per 3,9 miliardi di euro. Nel 2011 il costo del progetto si attesta su 6,3 miliardi di euro. Nel 2012 arriva a 8,5 miliardi. Nel 2023 il Consiglio dei Ministri, dando un nuovo via all'opera, indica una spesa complessiva di 10 miliardi. Siamo dai 3,9 nel 2023 a 10 miliardi di euro, che salgono solo dopo qualche settimana 14,6 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardo e cento per i lavori complementari di ottimizzazione delle connessioni ferroviarie. Un'opera che parte con 3,9 miliardi di euro, oggi stiamo investendo 14,6 miliardi di euro. Sono risorse pubbliche in una condizione del nostro paese che ha invece bisogno di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e fare in modo che quelle risorse siano davvero utili e funzionali allo sviluppo del nostro paese, siano utili e funzionali allo sviluppo della nostra società. Si potrebbero utilizzare su quel territorio, si potrebbero utilizzare per la... e non è populismo. Stiamo ragionando le risorse che sono state sottratte alla manovra. A una manovra che fa lacrime e sangue rispetto ai temi della sanità, fa lacrime e sangue rispetto ai temi dei salari, non interviene sulle pensioni, dà 4 soldi sulle pensioni. Per questo peraltro stiamo mettendo in piedi la nostra mobilitazione del 29. E di queste risorse la metà, ben la metà, saranno prelevati dal fondo sviluppo e coesione. Stiamo parlando di risorse che sono state stanziate, qui abbiamo anche importanti rappresentanti politici, diciamo, del Parlamento europeo, sono state stanziate per ridurre i dirali territoriali, per investire nel mezzogiorno, per fare in modo che anche quella parte del paese potesse essere funzionale allo sviluppo del paese. La metà di quelle risorse vengono sottratte alla Calabria e alla Sicilia all'intero mezzogiorno per costruire un ponte sul nulla. E io mi chiedo, Presidente Occhiuto, Presidente Schifani, ma rispetto a questo scippo, ma che cosa state dicendo? Ma qual è la vostra azione politica rispetto a uno scippo di questo tipo? Che continuerà ovviamente ad aumentare i dirali territoriali, altro che a ridurre i dirali territoriali. E poi, non soltanto costosa, anche pericolosa, ma può un governo di questo tipo? Può il Ministro di un governo così non tener conto degli allarmi che arrivano dall'Istituto di Vulcanologia, dal CNR, dall'ISPRA, tutti che raccontano del rischio di faglie attive sulle quali si sta costruendo un ponte di questo tipo, che può creare un problema pericolosissimo per i cittadini e per chiunque attraverserà quel ponte. Si analisi, si fermino, facciano una valutazione attenta, non facciano tutto, non sia tutta una scelta politica. Hanno sostituito dodici membri del comitato via. In quattro giorni hanno analizzato il progetto e lo hanno approvato in quattro giorni. Impossibile. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. È pericoloso. E noi vorremmo tutti quanti dare tranquillità ai cittadini e alle cittadine di quei territori e non soltanto. Quindi bisogna affermarsi. C'è bisogno di ben altro. Bisogna dare risposta a quelle famiglie e non soltanto a 450 nuclei familiari costretti a lasciare le loro abitazioni e a vivere in una condizione di disagio permanente, senza una prospettiva vera. Non c'è chiarezza. E su questo voglio dire, mi permetto di dire come CGL, che c'era tutto il supporto di qualsiasi tipo, di natura nera che è legale, sul piano amministrativo e politico per sostenere queste famiglie. Ma addirittura 3.000 imprese di quei territori sono state già sottoposte a procedura di es proprio. 3.000 imprese. Di questo stiamo parlando. Stiamo impoverendo un territorio. Non stiamo facendo interventi per salvaguardare quel territorio. Stiamo impoverendo un territorio. E allora non voglio farla lunga, perché peraltro qui sono presenti tanti cittadini di quei territori che conoscono bene quali sono le condizioni. Ma perché non si spendono quei soldi per il distesto ideologico? Perché non si spendono quei soldi per migliorare il sistema di approvvigionamento dell'acqua? Perché non si spendono quei soldi per l'alta velocità, per l'elettrificazione, miglioramento della mobilità? Perché non si spendono quei soldi per il completamento della Messina Catania Palermo, della Messina Catania Siracusa, la messa in sicurezza del sistema autostradale siciliano, la realizzazione della 106 che ormai è una chimera. Ecco, noi siamo per le opere pubbliche, non siamo contro le opere pubbliche. Siamo però per opere pubbliche strategiche che creano le condizioni dello sviluppo e migliorano le condizioni dei cittadini e delle cittadine. Qui si stanno sperperando dal nostro punto di vista risorse importanti che potrebbero essere utilizzate per migliorare la vita delle persone, dei cittadini e delle cittadine. E noi staremo, continueremo a stare con i cavernicoli. Grazie. Grazie, grazie Pino. Darei ora la parola a Dante Caserta, presidente del WWF e poi si prepara Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra. Io sarò crudele coi tempi, cercate di capirmi, ma vorremmo dare la parola alle associazioni nazionali, al territorio, cercando di farle stare insieme. Grazie. Permettetemi però, prima di iniziare, tanto poi sarò più breve, un ricordo di una persona che penso molti in questa sala hanno conosciuto, che era Stefano Lenzi, che ha fatto veramente tanto per la collaborazione tra le associazioni su tutte le infrastrutture italiane, ma che si è dedicato veramente tantissimo a questa vicenda che ha accompagnato il WWF, le associazioni, i territori e così via in questi ultimi anni. Quindi pensavo che l'abbiamo ritenuto insieme a tanti altri amici, insomma, un ricordo doveroso. Vado invece sui punti e partirei dall'attualità. Noi notiamo una certa analogia, una brutta analogia tra quello che è il tema dell'autonomia regionale differenziata e il progetto del ponte sullo stretto di Messina. In che cosa lo notiamo questa analogia? Nel fatto che ormai il Parlamento non ascolta più. Cioè noi facciamo una serie di audizioni continue portando dei dati, il Parlamento non ne tiene assolutamente conto. Gli elementi che la Corte Costituzionale ieri dal comunicato che abbiamo visto ha evidenziato, erano stati tutti quanti evidenziati nel corso delle audizioni da parte di non soltanto le associazioni, gli organismi, il sindacato che si oppone all'autonomia differenziata ma da costituzionalisti. Eppure il Parlamento non l'ha ascoltato. E secondo noi la stessa cosa accadrà sulla vicenda del ponte sullo stretto. La Commissione via continuerà a non ascoltare perché tutte le osservazioni che sono state fatte e che sono state portate anche al Parlamento durante le audizioni non vengono mai prese in considerazione. Sembra quasi che l'unica cosa che sia importante è poter dire abbiamo fatto le audizioni ma poi la valutazione reale per cui noi eleggiamo delle persone al Parlamento per prendere delle decisioni non viene mai fatta da nessuno e questo è gravissimo. Ora dovremmo vedere effettivamente che cosa dice il parere. Noi lo annunciamo fin da subito, faremo tutte le azioni possibili che ci sono, si valuterà per quanto riguarda il ricorso amministrativo, chiaramente dobbiamo leggere esattamente che cosa dice il parere. Valuteremo anche dal punto di vista penale un esposto perché ci sono tanti elementi che sollevano molti dubbi rispetto al fatto che ci sono delle differenze evidenti tra quelle che erano le ricostruzioni che sono state date e invece la realtà dei fatti che noi abbiamo e che tutti quanti conoscono. E poi c'è però un'azione che invece può essere fatta subito, un'attività rispetto all'Unione Europea. Noi su questo ci muoveremo fin da subito e stiamo già lavorando perché ci sono tre elementi fondamentali da tenere in conto che sono l'assegnazione dell'opera senza gara di appalto avvenuto grazie a una sottostima dei valori. Oggi stiamo vedendo che continuamente il costo del ponte aumenta. L'altro aspetto è quello delle violazioni della direttiva habitat e uccelli perché lì si va a colpire una delle zone che dovrebbe essere fra le più tutelate d'Europa e si va a realizzare un'opera di questo genere che ha un impatto devastante come tutti quanti anche gli stessi costruttori, anche gli stessi progettisti non possono fare a meno di ammettere. E infine c'è l'aspetto della mancata applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica. Loro stessi dicono che non si tratta di un'opera ma di un sistema ponte e infatti il sistema ponte riguarda tutta una serie di opere. Ragion per cui doveva essere fatta una valutazione ambientale strategica che doveva tenere conto di tutta una serie di elementi che loro invece hanno volutamente ignorato per poter procedere. Ci sono gli elementi per poter fare quindi un'azione per continuare. Quello che è successo ieri è stato soltanto un elemento che noi abbiamo conosciuto già tante altre volte di passi in avanti che si vogliono fare ma l'importanza è che a livello nazionale e a livello locale si porti avanti la battaglia che non è assolutamente finita. Grazie. Grazie Dante. Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra e poi si prepara Saverio Pazzano della Strada, dell'Associazione La Strada. In assoluto grazie, grazie alla vostra mobilitazione. Ovviamente noi come Alleanza Verdi e Sinistra siamo al vostro fianco, la sosteniamo da molto tempo e la continueremo a sostenere. Ieri il Ministro delle Infrastrutture Salvini nel commentare il parere positivo della Commissione Via ha fatto la seguente affermazione. Ha detto è così progettato bene questo ponte dal punto di vista della tenuta sismica che in caso di sisma sarà l'unica infrastruttura che rimarrà in piedi. Ecco questa è la frase che spiega perché non si deve fare il ponte. Perché fare un ponte perché poi vai a prendere le macerie tutto intorno è proprio il segnale dell'irresponsabilità di questo Governo che pensa agli affari. Perché parliamoci chiaro, il ponte sullo stretto di Messina è solo un grande affare. Seconda questione, io non sono venuto qui a dire le cose che voi già avete detto, ho sentito Sigismondo e tutti quanti, io sottoscrivo al 100% delle ragioni per cui non si deve fare il ponte. Il punto oggi è come noi ci organizziamo. E qui oggi pubblicamente, oggi ho scritto, oltre ad aver telefonato al Ministro dell'Ambiente, Pighetto Fratin, io ho anche formalmente scritto a lui e alla Commissione Via. Sia ben chiaro, non siamo sciocchi. Quello che sta accadendo in queste ore non può andare bene perché se il sottosegretario Morelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri commenta quanto segue, stiamo valutando le osservazioni del parere. E se l'amministratore delegato Ciucci stiamo valutando le osservazioni del parere per dare una risposta e per adeguarci. E noi non abbiamo, io che sono un parlamentare, non abbiamo questo parere. E questo parere non è pubblicato. Io dico attenzione Ministro Pighetto Fratin, ritengo responsabile della corretta procedura di consegna del parere e nella sua pubblicazione. È una fase molto delicata, noi vogliamo capire cosa c'è scritto in quel parere e questo ritardo potrebbe essere un ritardo. Qualcuno obietterà, ma Bonelli sono passati 24 ore, 36 ore. Ok, sono passate 24, 36 ore, ma qualcuno lo sta leggendo e altri invece questo parere non lo leggono. D'accordo? Io voglio essere molto chiaro da questo punto di vista col Ministro Pighetto Fratin. Secondo, è stato fatto scenno proprio un amico della CGL i 12 membri che sono stati integrati a quattro giorni dalla convocazione della Commissione. Noi abbiamo letto il curriculum di queste persone. Voglio dire che ho il massimo rispetto per queste persone, quindi non si sentano offese, per carità di Dio. Però devo vedere che la candidata sindaca di Perugia, di Fratelli d'Italia, oggi sta nella Commissione Via, per carità, buona professionista, ma la cui curriculum è quella di essere un'architetta esperta nella ristrutturazione di interni di case. O vedere un consigliere comunale che è esperto nell'installazione di ascensori. O vedere un ingegnere che ha una società che è specializzato nella manutenzione e negli appalti per l'aspaltatura delle strade. Insomma pone un grande interrogativo di chi ha letto in quattro giorni diecimila pagine, mille planimetrie, fatto calcoli volumetrici, costruttivi, sismici e altro. C'è un problema serio in questo Paese che non si può pensare di mettere su giudice un'opera così importante alla volontà, che non sono capricci, attenzione, perché io ribeto, è un grande affare, alla volontà di un ministro che sta calpestando le regole della legislazione dal nostro punto di vista italiana e europea, che si chiama Matteo Salvini. Terza questione. Io trovo inaccettabile che due organismi, del resto il ministro Musumeci ha detto che all'ISPRA è un covo pericoloso di ambientalisti integralisti, cioè un organismo scientifico, ma che due organismi, ma direi anche il terzo, in primis il Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dice che c'è un problema sulla PGI, Peak Ground Acceleration, e che l'amministratore delegato Ciucci, a cui io auguro di essere assolto al processo a Palermo, perché io auguro a tutti di essere assolti, ma c'è un problema che riguarda anche di come si è scelta quella nomina rispetto a una persona che aveva problemi di questo genere attenenti alla costruzione di ponti, un ponte che poi è crollato e che il cui contestazione di reato è stata assolta perché era andata in prescrizione, vedremo quello che deciderà il 5 dicembre il Tribunale di Palermo su quella vicenda, ma che sia l'amministratore delegato Ciucci a dire all'Istituto Nazionale di Geofisica che loro sbagliano, anche no grazie, si è superato ogni limite in questo Paese, non è proprio possibile, e che si venga a dire, attenzione chiedo scusa, si venga a dire che le osservazioni sismiche e tutte le questioni sismiche sono state ampiamente date e risposte dal Consorzio Eurolink, si è superato ancora un limite perché non può essere il Consorzio che progetta e realizzerà il ponte a dare la risposta sismica. Io voglio da cittadino italiano e diciamo in nome della Repubblica Italiana che siano gli organismi pubblici della Repubblica Italiana a dire se c'è un problema sulla sismicità, non può essere il Consorzio Eurolink che ci rassicura perché io non sono rassicurato. Terzo, e concludo, è la questione ovviamente che attiene alcune questioni che ripeto sono legate proprio al tema della sismicità, al tema di alcune questioni. Io ho letto un documento della soprintendenza ai beni culturali della Sicilia che alla fine termina così, riguardo ovviamente al ponte, non siamo nella condizione di esprimere un parere perché la documentazione portata dalla società stretta di Messina dice così è omissiva. A casa mia nelle aule dell'università italiana quando si scrive una cosa di questo genere questa roba ha una rilevanza penale, chiaro? Perché se tu ometti nella progettazione dell'opera più importante hai avuto un atteggiamento omissivo c'è un problema. E allora chiudo, la questione l'avete detta tutti ampiamente, ci sono i problemi legati alla questione, dobbiamo leggere il parere, penso che quel parere porterà a far lievitare l'opera ampiamente sopra i 14,6 miliardi di euro, ampiamente, ma non hanno vinto. Io lo dico a ciucci, non avete vinto perché sapete, io so, so come state lavorando e quindi da questo punto di vista noi ci attrezziamo di conseguenza, non ci sentiamo intimoriti, andremo fino in fondo da questo punto di vista e vedremo quello che accadrà in questo paese. Se io fossi la Presidente Meloni a cui mi accingo a scrivere, non sarei molto tranquilla, ho chiusa, ti chiedo scusa, perché l'unico organismo tecnico che non è tecnico, che è politico, il CIPES, si accingerà a dare un parere tecnico quando detto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potete dare un parere. Sapete che cosa mi ha risposto a me ciucci? Che il parere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ce l'aveva dato? Sapete quando l'ha dato? 1989, 25 anni fa. Questo è un paese che deve essere serio, inaccettabile, inammissibile. Quindi, cara Giorgia Meloni, se fossi a posto tuo, prima di dire sì, ci penserei due volte perché vi assumete una responsabilità enorme nei confronti del paese. Grazie ad Angelo che è appassionato su questa vicenda e ci serve. Saverio Pazziano della strada e poi si prepara Annalisa Corrado della Segreteria Nazionale del PD, nonché europarlamentare. Buongiorno a tutti e a tutti e grazie di questa mobilitazione. Se ci fosse bisogno di una prova che solo la chimera di El Ponte è un danno, è un danno che impedisce lo sviluppo vero dei territori, è un danno che blocca la creazione di opere e infrastrutture davvero indispensabili, Reggio Calabria ne sarebbe la prova. Il piano regolatore, pensato alla fine degli anni 60, nacque proprio in funzione del ponte e la stessa assenza del ponte determinò l'alibi per impedire un vero sviluppo e la perenne emergenza della statale 106, per impedire la reale conurbazione con l'area di Villa e con l'area dello stretto con Messina, per impedire fino a oggi una reale mobilità nell'area dello stretto che sia efficiente, efficace e sostenibile, per rendere davvero separate le due coste come sono oggi. Il passaggio da costa a costa è davvero difficile, costoso e davvero lontane le coste che invece dovrebbero essere vicine. L'alibi è stato l'alibi per trasformare in secondarie e compensative opere che invece sarebbero indispensabili, fondamentali, dall'approvvigionamento idrico ai servizi indispensabili alla mobilità, a quell'opera infrastrutturale che davvero deve essere determinante, la messa in sicurezza di un territorio straordinariamente bello e straordinariamente fragile. È tutto questo che manca, è tutto questo che viene trasformato in consulenza, la faccio io la consulenza gratuitamente, abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno che non vengano sottratti i soldi ai fondi coesione, abbiamo bisogno di ospedale, abbiamo bisogno di scuole, abbiamo bisogno di una politica che sia davvero lungimirante e dal Consiglio Comunale di Reggio Calabria, in un Consiglio Comunale aperto, molto partecipato e aperto, abbiamo presentato una mozione, una mozione che richiama gli amministratori e che richiama ciascuno di noi, io da Consigliere Comunale, ad una cosa molto semplice, che del resto è riportata anche nelle prescrizioni che qualche giorno fa, poche ore fa sono state ricordate, che sono prescrizioni che dicono attenzione al paesaggio, attenzione ai terremoti, attenzione ai territori e allora una mozione ispirata semplicemente a quello che dovrebbe essere il principio fondamentale di ogni amministratore, di ogni politico, di chiunque governi, il principio di precauzione, un principio di precauzione che oggi ci dice che questo ponte non si può fare e che comunque anche se si potesse fare sarebbe davvero dannoso, sarebbe la separazione dei territori, sarebbe la distruzione di quella straordinaria infrastruttura che è il paesaggio dello stretto, che viva lo stretto e sì alla Costituzione che dice all'articolo 9 che tutela il paesaggio e la biodiversità in nome delle future generazioni. Ecco il lavoro che dobbiamo fare è che viva lo stretto. Grazie Saverio, Annalisa Corrado, europarlamentare, membra della segreteria nazionale del PD e si prepara Stefano Ciafani di Lega Ambiente. Buongiorno, funziona? Sì, eccoci. Grazie veramente a tutte e a tutti, grazie di aver organizzato questo evento così importante, grazie di presidiare giorno dopo giorno questa questione così terribile che tutti noi stiamo cercando di supportare in maniera sempre più coesa e compatta. Devo dire che sono molto felice che il PD sia presente dai circoli territoriali a livello regionale, a livello nazionale in Parlamento, a livello europeo dove stiamo presidiando, tra l'altro abbiamo presentato proprio la scorsa settimana delle interrogazioni alla Commissione Europea, tra l'altro io da primo mandato in Commissione Europea e al Parlamento Europeo ho scoperto che le interrogazioni le devi fare di un certo numero di parole e quindi ci stanno solo poche delle questioni che dobbiamo portare all'attenzione europea riguardo a questo eco mostro, a questo progetto insostenibile. Siamo partiti da tre, siamo partiti dal fatto che è stato richiamato prima giustamente che quando i costi lievitano del più del 50 per cento non si può procedere con l'assegnazione già fatta e quindi questo viola le direttive europee. Se si dice che il progetto non deve essere lottizzato, non deve essere spacchettato quando si assegna la gara non si può spacchettare in un secondo momento e anche questo è stato fatto, si può pensare di costruire un ponte su una faglia attiva senza le dovute attenzioni, senza le dovute rassicurazioni da parte giustamente come diceva Angelo Bonelli delle istituzioni tecnico scientifiche pubbliche di questo paese, non si può fare. Quindi questi sono i primi tre quesiti che siamo riusciti a mettere nell'interrogazione della scorsa settimana ma continueremo perché ci sono veramente tanti punti su cui insistere per far capire all'Europa che questo è un eco mostro, è un progetto insostenibile, è un fatto ideologico, puramente ideologico che passa sopra la testa la vita delle persone e passa sopra dei luoghi meravigliosi perché poi si parla sempre di questo ponte come se fosse un oggetto che dall'alto viene giusto a posto lì sullo stretto e non si parla del consumo di suolo devastante da una parte e dall'altra della cementificazione. Proprio qualche giorno fa il ministro Musumeci parlando degli eventi alluvionali meteorologici estremi di questi giorni parlava ci vuole in Italia una legge sul consumo di suolo? Bene, benissimo, cominciamo a parlare del consumo di suolo del ponte sullo stretto da una parte e dall'altra, delle infrastrutture, della cementificazione e poi fatemi dire un'altra cosa, questa bellissima vignetta qui dietro di Mauro Biani ci ricorda una cosa terribile, la Sicilia, la Calabria vivono uno stress idrico mai visto acuito dalla crisi climatica che è una cosa che sarà sempre peggio, non sarà meglio di così, non ci sarà una bacchetta magica che risolve questa questione, soprattutto se nessuno la prende in mano. La Sicilia guidata da Musumeci ha perso 31 progetti presentati dal PNRR nel 2021, 31 su 31, che dovevano essere soldi che andavano all'infrastrutturazione, alla rigenerazione, tutte per la sicurezza idrica del territorio siciliano. Non ci dimentichiamo che questa estate sono stati espiantati agrumeti, sono stati abbattuti i capi di allevamento perché non c'era abbastanza acqua, le scuole sono state chiuse da questa primavera e ci sono problemi alla popolazione civile per l'approvvigionamento idrico minimo con un problema che sta diventando sanitario e qui si parla di un ponte che avrebbe dei cantieri che oltre a distruggere tutto quello che abbiamo detto ha un bisogno idrico incredibile e quindi io dico questo, cioè fermatevi, questo è un progetto scellerato, una questione ideologica perché si vuole tenere un punto e si vogliono drenare miliardi di risorse pubbliche, cioè tirate fuori dalle nostre tasche, quando si sta tagliando su tutto e si sta tagliando su tutte le cose che sono state dette sulla sanità, sulla salute, sulle fragilità delle persone ma si sta tagliando anche sul futuro perché se noi non cominciamo a ragionare in termini di una crisi climatica che ci esporrà a eventi meteorologici estremi sempre più drammatici, sempre più catastrofici, se non prepariamo i nostri territori vedremo sempre più danni, sempre più gravi, anche pochi giorni fa, due giorni fa a Catania, dopo tanti mesi di siccità, di nuovo 500 mm di acqua, per fortuna localizzati in piccole zone di territorio che sono più o meno simili a quelli che sono venuti giù a Valencia la settimana scorsa con oltre 200 morti, quindi noi siamo in un'epoca storica in cui qualsiasi euro pubblico deve essere speso e investito per il futuro e invece noi stiamo guardando a un passato che non esiste e con un collegamento folle tra due regioni che hanno bisogno di tutto tranne che di questo ecomostro, hanno bisogno di infrastrutture per i trasporti sostenibili come quelle ferroviari, ci vogliono nove ore per arrivare da una provincia all'altra della Sicilia in treno ma sarà mai possibile, ci vogliono infrastrutture stradali, ci vogliono infrastrutture idriche, bisogna investire su tutto tranne che su questa follia. Grazie Anna Lisa, Stefano Ciaffani di presidente di Lega Ambiente e si prepara Fiertel Giuliana del coordinamento no ponte. Sì grazie per questo appuntamento, se sono un cittadino di Trapani e voglio andare a Ragusa, apro l'app di Trenitalia e vedo che da Trapani a Ragusa ho due opzioni, posso partire la mattina alle 5.56 e arrivo a Ragusa alle ore 21 dopo 15 ore e 12 minuti di viaggio cambiando 5 treni, oppure parto alle 11.24 da Trapani e ci impiego solo 11 ore e 44 minuti cambiando 4 treni regionali da Trapani a Ragusa. Quando lo scorso 14 febbraio abbiamo presentato il nostro rapporto pendolaria, l'abbiamo presentato la mattina con Lega Ambiente e il circolo di Reggio Calabria, il pomeriggio ci siamo spostati a Messina, l'abbiamo presentato con Lega Ambiente Sicilia e i due circoli di Messina, c'è il presidente Lega Ambiente Sicilia Tommaso Castronomo qui, abbiamo presentato il quadro su come ci si muove sui treni in Sicilia, in Calabria e nel resto del paese, su quanto è l'età media dei treni regione per regione, quanto è diffuso il binario unico, quanti chilometri di ferrovie sono elettrificati in Sicilia, in Calabria e nel resto del paese. Sto solo alle infrastrutture ferroviarie per non andare oltre, ma gli interventi precedenti hanno già raccontato quali sono tutte le esigenze di queste due regioni. Solo chi in Sicilia e in Calabria non ci è mai stato o non ci vive o non ci è mai andato in vacanza o non ci è mai andato per lavoro, può pensare che si possa mettere in campo un investimento che sarà un'idrovora di 15 miliardi di euro e chissà se mai verrà realizzato quanto potrà costare veramente. Solo chi non conosce queste due realtà o ovviamente fa finta di non conoscere queste due realtà, può pensare che per rendere la vita ai calabresi e ai siciliani e a chi in questi territori va in vacanza o va per lavoro, solo chi non conosce questi territori può pensare che questa sia un'opera che cambierà la vita alle persone che vanno in queste due regioni o che vivono in queste due regioni. c'è anche un'altra parte di paese che ovviamente subirà, avete parlato giustamente delle vittime, le prime vittime che sono gli espropri. Nel resto del paese non è che il sistema ferroviario sia da paese industrializzato, questo vale anche nel ricco nord-est o nel ricco nord-ovest, ero a Verona qualche settimana fa, da Verona a Schio, Schio è la Manchester d'Italia, c'è una linea ferroviaria a binario unico non elettrificata. Allora, credo che la narrazione del ministro delle infrastrutture dei trasporti Matteo Salvini che vuole descrivere questo movimento come un movimento del no e che dovrebbe occuparsi solo di uccellini e di pesci nel mare, credo che sia una narrazione che noi dobbiamo respingere mettendo insieme quella parte di paese che in Sicilia, in Calabria e nel resto del paese subirebbe le conseguenze se quest'opera venisse realizzata. Perché mi trovo ora che prosciuga le risorse per fare gli altri investimenti ferroviari, sto stretto su questo. Perché non siamo nel secondo dopoguerra, non abbiamo a disposizione le risorse del piano Marshall dagli Stati Uniti, in cui possiamo permetterci di fare investimenti. L'abbiamo visto nei giorni scorsi, per costruire le leggi di bilancio hanno azzerato il fondo sull'automotive. Le risorse non ci stanno. Allora credo che, e chiudo, questa operazione che noi dobbiamo continuare e proseguiremo fino alla fine, perché il ponte non si deve fare, ma non perché siamo gli ambientalisti o i cittadini del no, perché vogliamo che si aprano gli altri cantieri. Quello che servono veramente, a partire dai cantieri ferroviari, io credo che dovremmo continuare a farla, raccogliendo tutta la frustrazione e la rassegnazione di quella parte del popolo dei pendolari di tutta Italia, non solo della Sicilia e della Calabria che saranno direttamente coinvolte, facendo rendere conto anche ai cittadini lombardi, veneti, quelli che vengono, quelli che gravitano sulla città di Roma, quelli che ci devono spostare dall'Adriatico o dal Tirreno e non possono farlo, perché non ci sono treni, magari ci stanno anche lì le ferroviarie, ma non ci stanno i treni, quindi dovremmo pendere tutta questa parte di paese, a partire dai cittadini siciliani e calabresi, per poter mettere in campo un'alleanza per far diventare questo paese un paese civile, perché dobbiamo permettere a tutti di poter scegliere, e sanno bene i siciliani e i calabresi che non possono scegliere su come muoversi, sono costretti a muoversi, in una maniera che non è propria di un paese che siede al tavolo dei G7. Grazie. Grazie a Stefano. Fiertel Giuliana del coordinamento No Ponte, si prepara Vincenzo Calò di El Lampi. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Il coordinamento No Ponte è una realtà nella quale sono rappresentati tutti i comitati civici, le associazioni ambientaliste e culturali, i sindacati, i partiti politici e quanti danni si oppongono alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Un'opposizione che non è assolutamente di natura ideologica, ma è dettata dal fatto che si tratta dell'ultimo inutile e dannoso retaggio di una politica già sperimentata in maniera fallimentare in tutto il sud Italia, una politica che impone dall'altro questi mega interventi o industriali o infrastrutturali che poi sappiamo che lasciano dietro di sé la desertificazione totale. Noi come coordinamento No Ponte non ci siamo limitati a dire un no, ma ci siamo fatti i fautori di una politica che partendo dall'analisi delle necessità del territorio, dalle peculiarità del territorio, proponesse, individuasse dei punti critici e fosse in grado di trasformare queste criticità in un valore. Allora abbiamo creato dei gruppi di lavoro e abbiamo individuato diverse aree critiche. La prima è proprio l'area dei trasporti nello stretto, perché sì, c'è un problema nell'area dei trasporti nello stretto. Non è che tutto funzioni meravigliosamente, ma questo non vuol dire che l'unica soluzione perseguibile sia il ponte, che poi è una soluzione ormai anche un po' retro rispetto a quanto avviene per esempio come vedremo nel nord Europa. Allora quali sono le criticità fondamentalmente? Le criticità sono di due ordini di motivi. I treni ci stanno troppo ad essere traghettati e i mezzi che vengono utilizzati sono spesso dei mezzi inquinanti e obsoleti. Allora partendo da queste criticità noi abbiamo ragionato, abbiamo fatto una proposta di intervento e questa proposta di intervento, come le altre due che io ora vi presenterò, hanno trovato copertura finanziaria nei fondi precedentemente stanziati con la finanziaria del 2024 per il ponte sullo stretto e la nostra proposta è stata accolta dai deputati di Allanza Verdi e Sinistra che l'hanno presentata lunedì scorso insieme alle altre due che vi illustrerò come emendamento alla finanziaria. Quindi noi non diciamo no a tutto, noi diciamo spendiamo diversamente e per rispondere alle istanze dei territori questi soldi. Poi se volete per la stampa lascerò la copia degli emendamenti se vogliono consultarli. Allora vado velocemente. Il primo emendamento che è l'emendamento all'articolo 80 bis interventi per l'innovazione e la transizione ecologica della mobilità marittima nello stretto di Messina. In buona sostanza noi proponiamo di comprare dei mezzi che siano a doppia alimentazione nel caso delle navi o a alimentazione esclusivamente elettrica nel caso degli aliscafi perché nell'Europa esistono gli aliscafi elettrici che non inquinano. Questi sono veramente dei mezzi di trasporto che non inquinano, non continuano a investire sul gommato. E poi basterebbe acquistare i treni Freccia Rossa 1000 che non hanno bisogno di essere spezzettati per essere introdotti dentro le navi perché riescono a entrare direttamente nelle navi e il traghettamento si riduce dagli attuali due ore e cinque minuti a un'ora e cinque minuti. Quindi è un progetto realizzabile in un tempo di gran lunga minore e con un investimento irrisorio rispetto ai costi del Ponte dello Stretto perché è stato chiesto di stanziare 648 milioni di euro a fronte di 14 miliardi e rotti. Questa era una delle prime macro criticità dell'area dello Stretto, quella dei trasporti. Già è stato accennato, la Sicilia ha un problema enorme, ha una siccità gravissima. Quest'anno siamo arrivati veramente a situazioni paradossali, l'ottura in ginocchio, allevamenti costretti a macellare gli animali, industria del turismo in crisi, dighe che venivano svuotate perché sì le dighe ci sono ma non sono collaudate, quindi si riempiono e vengono svuotate a mare e città intere che rimangono senza acqua potabile. Allora noi abbiamo approfondito il problema, abbiamo fatto anche in questo caso una valutazione degli interventi necessari, dei costi che sarebbe necessario affrontare e la nostra proposta è stata anche questa, un discorso presentato dai deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, l'articolo 94 bis, interventi di mitigazione del rischio... no scusate questo è l'altro ancora, ne abbiamo detto i tre, l'altro 94 bis. Aspettate non lo trovo più... ecco, interventi straordinari per la crisi idrica della regione siciliana. Fondamentalmente noi chiediamo di usare 4 miliardi 115 milioni dei soldi precedentemente stanziati per il ponte sullo stretto per finanziare cosa? Per finanziare gli interventi infrastrutturali necessari a porre rimedio alla crisi idrica perché una cosa va chiarita, non è che l'acqua in Sicilia non c'è soltanto perché sono diminuite le precipitazioni e le precipitazioni sono diminuite, però se noi andiamo a guardare i dati pluviometrici in Sicilia è piovuto talmente tanto che se noi avessimo le diche che funzionano, la rete che non è un colabrodo perché la rete siciliana standa i dati Istat, Semina, Strada facendo oltre il 51% dell'acqua immessa quindi se noi avessimo delle reti infrastrutturali funzionanti la Sicilia non sarebbe in una situazione di carenza idrica quindi bisogna non sprecare l'acqua, l'acqua non è un bene infinito ce ne accorgiamo oggi perché sono diminuite le precipitazioni ma allora dobbiamo pensare di non buttare l'acqua in mare svuotando nuovamente le diche o facendola perdere nelle infrastrutture e nelle tubazioni che sono un colabrodo quindi questo emendamento proprio stanzia dei soldi per mettere in sicurezza le diche spangarle, riparare le reti siciliane e anche fare il trattamento delle acque reflue per poterle utilizzare in zootecnia, in industria e via di scena L'altro grosso problema, lo abbiamo detto, è quello il rischio idrogeologico perché purtroppo la Sicilia e la Calabria sono tra le regioni a maggiore rischio idrogeologico e quindi anche a questo bisogna far fronte perché è un'emergenza dei territori abbiamo visto proprio cos'è successo a Catania l'altro giorno Messina sono morti pochi anni or sono intere famiglie per il dissesso idrogeologico e anche questo quindi è un argomento su quale abbiamo ritenuto prioritario intervenire con questi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientali delle regioni Sicilia e Calabria fondamentalmente è un piano di interventi che prevede la riforestazione il recupero e la stabilizzazione dei terreni d'altura opere di mitigazione del rischio idrogeologico sistemi di imnotilaggio e contrasto al dissesso idrogeologico dell'area dello stretto anche per questo si fa fronte con 1 miliardo 497 milioni di euro precedentemente stanziati per il ponte sullo stretto quindi di fatto a costo zero va bene per le altre proposte saremo felici di presentarle ai partiti e ai sindacati a tutte le forze interessate noi siamo qui per lavorare insieme per il nostro territorio grazie grazie giuliana scusate se alle volte sono cerbero ma vorremmo far parlare più persone possibili quindi tendo essere duro coi tempi vincenzo calò dell'ampi e si prepara agostino santillo onorevole del movimento 5 stelle grazie io non sarò lungo mi limito a dire che questa è un'occasione da cogliere perché l'ennesima dimostrazione che c'è un fronte unitario popolare democratico consapevole di uomini e di donne che potranno sì essere accusati di dire no ed è necessario come in questo caso dire no alla realizzazione del ponte sullo stretto però lo fanno per una consapevolezza in più per la coscienza comune perché dicendo no a questa tipologia di iniziative del governo semplicemente dicono sì alla costituzione repubblicana un bisogno che noi abbiamo è di non stare sulla difensiva ma cercare di essere consapevoli che ogni nostra azione ogni nostro agire questo percorso unitario di persone di uomini e di donne democratiche perché c'è una radice vedete ci sono argomenti e li faccio miei tutti fatemeli chiamare di natura tecnica sono stati espressi non per ultimo nell'ultimo intervento per dire no a questa infrastruttura io mi limito a dire semplicemente una cosa realizzare il ponte sullo stretto è una ingiustizia perché viola la sacrosanta necessità di rispettare tutta una serie di altri diritti che sono sanciti dalla costituzione repubblicana non per ultimo il rispetto delle persone e il rispetto delle esigenze dei diritti di tutti i cittadini di poter essere considerati come tali taluni uomini e talune donne in talune zone d'Italia soprattutto nel sud non hanno questo benefit di essere considerati cittadini dal governo centrale del nostro paese e anche da alcuni governatori delle regioni del sud è qui la chiave perché noi troviamo lo stimolo per essere parte attiva di questa grande battaglia di unità insieme a tante altre battaglie perché vedete da un punto di vista e questo sancisce in qualche maniera la schizofrenia di questo governo lasciatemelo dire senza infingimenti si vuole realizzare il ponte sullo stretto che di fatto dà l'idea di unire come già c'è nell'idea stessa di ponte dall'altro punto di vista con la legge Calderoli sull'autonomia differenziata si vuole dividere l'Italia o se non altro diversificare la consapevolezza che l'Italia è un paese che si fonda sulla solidarietà nazionale che si fonda sull'unità nazionale che sancisce l'unità voluta dalla resistenza e dalla Costituzione repubblicana articolo 2, articolo 3, articolo 5 ecco io immagino che non vivano un bel momento gli uomini e le donne del governo nel momento in cui, notizia odierna lo sapete, quella legge sull'autonomia differenziata viene messa in discussione dalla Corte Costituzionale proprio perché è contraria a quei principi fondamentali della Costituzione repubblicana quindi noi siamo contro questa schizofrenia e noi siamo di fronte ad una consapevolezza comune nel momento in cui ci sono delle ragioni per cui bisogna trovarsi uniti intorno alla Costituzione e perché una volta per tutte noi dobbiamo sbugiardare coloro i quali dicono che la Costituzione con le varie proposte che ad essa si riferiscono vada cambiata perché è vecchia così come noi siamo quelli del no semplicemente gli da fastidio che noi vogliamo che quella Costituzione resti perché loro vogliono cambiarla semplicemente perché antifascista si rassegnino perché noi saremo sempre dalla parte giusta per far valere i diritti delle cittadine e delle cittadine sanciti dalla Costituzione. Grazie a Vincenzo Agostino Santillo onorevole del Movimento 5 Stelle si prepara Alessandro Gianni di Greenpeace Grazie perché oggi con tanti di voi possiamo affrontare i problemi ancora una volta sul ponte sullo stretto parlando in temi di economia, di fattibilità e di priorità economia, sconvolgente colleghi della Lega che in legge di bilancio assegnano un miliardo e cento milioni in più al ponte sullo stretto aumentando i soldi che vengono prelevati dai piani di sviluppo e coesione che arrivano a sei miliardi e cento milioni stiamo parlando quindi di fondi che verranno depauperati al Sud. è sconvolgente che per una fissazione, per una malattia ormai che si è fatto il Ministro Salvini addirittura con il decreto legge ponte si cerca di superare la soglia per continuare a far realizzare e a progettare l'opera ad un soggetto che è stato affidatario anni fa ben oltre la soglia del 50% sia sulla soglia oltre il 50% quanto sullo spezzatino del ponte sì perché per Salvini il ponte si può iniziare a realizzare anche senza un progetto in Commissione Europea sono stati presentati e esposti anche da autorevoli professori indipendenti sulla materia e che non sia una priorità ce lo dice lo stesso Salvini perché Salvini l'altro ieri ci ha detto che se ci fosse un nuovo terremoto resterebbe in piedi solo il ponte allora è chiaro che la priorità non può che essere la messa in sicurezza del territorio il miglioramento l'adeguamento antisismico delle case dei siciliani e dei calabresi in primis il problema del contrasto alla siccità noi ci troviamo in un momento in cui le famiglie le famiglie siciliane per bere e per lavarsi devono andare negli abbeveratori magari per Salvini quegli abbeveratori devono stare sopra il ponte sullo stretto il ponte non è più e nemmeno che un'idea non è un progetto perché come lo chiamate voi un qualcosa che riceve 239 osservazioni dal Mase e diventano 60 prescrizioni da parte di una commissione via VAS che è diventato una sorta di circolo ricreativo per i consiglieri comunali del centrodestra non c'è un progetto le priorità sono certamente altre come evitare che ci sia il blocco ferroviario del nodo di Roma Termini e Roma Tiburtina che abbiamo assistito 2-3 settimane fa come oggi ancora i treni con oltre 60 minuti di ritardi o addirittura in Roma Puglia di due giorni fa con 6 ore di ritardo il problema della criticità del blocco del sistema aeroportuale tanto al nord quanto a Catania ecco allora io vorrei dire a Salvini un paio di cose innanzitutto se sa che grazie al vento questo ponte si sposterà lateralmente anche di 10 metri o se sa che grazie ai carichi verticali si sposterà in verticale anche di 15 metri ma chi vogliate mai che possa prendere un ponte in queste condizioni quanti giorni quante settimane io direi quanti mesi all'anno starebbe chiuso questo ponte e poi lo sapete ma questo certamente Salvini non lo sa quanti sono i ponti in tutto il mondo che siano sia ferroviari che carrabili che superano i mille metri bene sono quattro il più lungo esistente al mondo oggi ferroviario 1.408 metri e il terzo ponte sul Bosforo in Turchia rispetto al primo di mille metri per fare questa evoluzione di 400 metri il 40% in più l'uomo ha impiegato 50 anni oggi col ponte in unica campata che Salvini pretende per il ponte sullo stretto ci sarebbe un salto del 134% quindi immaginate in 8-10 anni lui vorrebbe fare un ponte che è due volte e mezzo in più con una snellezza che è 5 volte superiore al ponte attualmente più lungo accampata unica al sistema ferroviario al mondo è una follia non c'è nessun altro modo per definirla anche perché le sollecitazioni sono notevoli le dimensioni sono enormi sono veramente assurde non c'è stato alcun tipo di sviluppo tecnologico o anche una rivoluzione per i materiali da costruzioni che consentano anche solo di concepire un'opera del genere questa è una follia e vado a conclusione anche perché alcuni altri aspetti non sono stati per niente toccati io ve ne voglio ricordare uno fondamentale che è il gigantismo navale abbiamo già oggi navi giganti che trasporteranno merci che già oggi con quelle dimensioni non potranno passare sotto il ponte sullo stretto immaginatevi fra dieci anni io dico mai perché questo ponte secondo me non si farà mai ma c'è qualcuno che si sta ponendo il problema che compagnie rotte potrebbero cambiare visto che non possono tagliare lo stretto di Messina e quindi andando verso il nord Europa magari poi prediligeranno le rotte verso i paesi africani e quindi l'Italia a quel punto vedrà anche scendere il potenziale commerciale ed economico tutto questo è assurdo oggi da Roma a Siracusa ci vogliono ancora 12 ore e mezzo in treno il passeggero la realizzazione di questo collegamento stabile quindi il ponte interverrebbe solo negli ultimi 20-30 minuti questo è scandaloso abbiamo tutti insieme la volontà di porre in essere le misure affinché si risparmino prima 6 ore, 6 ore e mezzo completando l'alta velocità salendo del Gio Calabria completando l'alta velocità in Sicilia potenziando il collegamento dinamico come ho sentito dire ecco noi vogliamo questo il problema è che Salvini si impunta per 15 miliardi a questo punto e concludo io credo che speriamo che questo governo non arrivi al 2027 altrimenti con un ministro come Salvini è possibile che nel 2027 noi torneremo a spostarci con i calessi grazie grazie all'onorevole Santillo del Movimento 5 Stelle l'avete detto in tanti io lo voglio solo ribadire il senatore il ministro deve sapere che non ci fermiamo qui e quindi questa iniziativa sarà conclusa con un documento che lancerà le prossime iniziative che saranno rivolte alla Calabria alla Sicilia a Roma e all'Europa proviamo a mettere in campo tutto quello che è possibile per fermare sto scempio intanto la parola a Alessandro Gianni di Greenpeace e si prepara Barbara Manara dell'Arce quello dopo quello dopo c'è quello prima allora buonasera da un altro cavernicolo di origine sicula che conosce i suoi polli e che come molti altri cavernicoli ha capito che questo ponte non si farà mai questi cominceranno e le lasceranno a metà se va bene è una faccenda che ha molte altre analogie nel nostro paese penso per esempio al nucleare anche su quello abbiamo speso un sacco di soldi e non ci abbiamo niente e qui sarà la stessa cosa e quindi uno può dire vabbè è quindi un furto un regalo agli amici e agli amici degli amici che pullulano no perché questo ponte comincia ad avere degli effetti già da subito su tutti noi perché ci sono un pezzo per esempio del famoso decreto sicurezza che ovviamente parla di questo ponte perché ovviamente noi diamo tutti molto fastidio e quindi ovviamente ci vogliono fermare vogliono fermare vogliono fermare la nostra rivolta userò qui un termine specifico che in questo contesto è già stato utilizzato che è una rivolta necessaria perché a me mi rivolta questo progetto anzi mi rivolta questa finzione di progetto quindi è ovvio che siamo purtroppo purtroppo oltre il ridicolo che come dice si sarebbe da rire se non c'è da piangere e quindi primo l'impatto di ideologie come queste sul nostro ivere civile non esiste un progetto del ponte senza la possibilità di mettere a tacere chi non è d'accordo e questo è un problema grave poi ci sono altre questioni una piccola che è stata già accennata su cui siamo intervenuti che riguarda questa incredibile dinamica di un ponte che si alza e si abbassa è stato appena ricordato noi abbiamo prospettato questa faccenda e ci è stato risposto dalla società di Messina che da qualche parte o a Messina o a Villa San Giovanni ci sarà qualcuno che farà tipo il vigile ci sarà un'autorità che saprà in quel momento esattamente quanto è alto il ponte quante, che onde ci sono e che navi stanno arrivando e che decidirà se quelle navi possono passare o meno a me mi viene un fido solo a pensare a una cosa del genere io immagino calamità e disastri incredibili cioè una cosa così non esiste e poi e chiudo un altro piccolo problema se questa autorità dovesse chiudere lo stretto andrebbe a violare il diritto internazionale perché quello è uno stretto internazionale e c'è un diritto di transito che è sancito da una legge internazionale come fa questo signore che starà in uno sgabuzzino a Villa San Giovanni o a Reggio Calabria o a Messina a bloccare lo stretto di Messina c'è qualcuno che si è messo come si è fatto venire il dubbio che una faccenda del genere può avere ripercussioni un pochino più complicate di quelle che riguardano solo i trasporti su queste cose evidentemente c'è una superficialità tipica di chi ha già deciso la commissione via la potevano pure cambiare tutta e anche il giorno prima tanto il risultato non sarebbe cambiato questo progetto deve andare avanti e sta a noi fermarlo grazie grazie ad Alessandro Barbara Manara dell'Arci e si prepara uno dei figli a cui si rivolge Salvini Damiano Di Giovanni della Rete degli Studenti Medi e dell'Udo Sì salve buonasera a tutti e a tutte allora il progetto del ponte sullo stretto di Messina è probabilmente uno dei temi più controversi che da sempre o comunque da quando io ho memoria anima il dibattito pubblico dibattito spesso riacceso in ragione dei periodici ritorni anche ma forse soprattutto di carattere propagandistico che di questo progetto hanno fatto e fanno una bandiera e un obiettivo elettorale fortunatamente fino ad oggi senza che nessuno poi abbia deciso realmente di dargli seguito cosa che in un certo qual modo auspichiamo succeda anche questa volta nonostante la preoccupante accelerazione imposta da questo governo e dal Ministero delle Infrastrutture dei trasporti nella persona appunto del Ministro Matteo Salvini d'altra parte che questa opera declinata da questo governo come socialmente ed economicamente vantaggiosa nonché sostenibile sia di fatto costosa pericolosa, inutile e che rappresenti uno sfregio ambientale e paesaggistico a carattere irreversibile ce lo dicono appunto gli studi ce lo dicono diciamo innumerevoli studi e i dati oggettivi ma non ultimo ce lo urlano da tanti anni quelle comunità locale che quei territori vivono e che laddove venisse realizzato questo progetto subirebbero insieme ai delicati ecosistemi le conseguenze più impattanti dal punto di vista in termini proprio di trasformazione del territorio stiamo infatti parlando di un cantiere che andrebbe avanti per anni se non per decenni con previsioni che se non ricordo male si attestano intorno a 16 milioni di metri cubi di scavi alcuni dei quali serviranno per posizionare questi enormi piloni alti 400 metri ma parliamo di 160 mila tonnellate di acciaio di un'immensa colata di cemento per la cui produzione sarà necessario aprire decine di nuove cave nell'area dello stretto un ulteriore sfregio ambientale e paesaggistico ai danni questa volta di colline e versanti e soprattutto l'enorme quantità di acqua un tema che insomma è stato ripreso ovviamente più volte l'enorme quantità di acqua in un territorio che insomma ne è storicamente carente ma io ritorno a quelle comunità le comunità locali che abitano quei territori e che verrebbero con questo progetto cancellate ridisegnate come si diceva prima deturpate nella loro identità e nella loro dignità da un progetto che letto nel dettaglio dei suoi interventi veramente riporta numeri numeri impressionanti numeri che non possono far altro se non descrivere una devastazione annunciata a carico di un territorio vastissimo e con un valore ambientale e paesaggistico enorme ma soprattutto numeri che ci ricordano dell'assoluta e colpevole negazione del protagonismo dei territori che si agisce attraverso il diciamo la negazione della partecipazione su progetti su progetti così importanti e la partecipazione altro non è se non il diritto alla propria identità all'esistenza alla memoria storica individuale e collettiva e ma ma soprattutto il diritto ad un futuro certo è possibile ora se è vero come è vero che oggi siamo arrivati ad un punto tale in cui è necessario tracciare un limite netto al diritto dell'uomo di imporre modifiche definitive all'ambiente che lo circonda noi oggi viviamo in un paese che ci sta preparando ad un ulteriore ad una nuova stretta che ci sta preparando una nuova stretta ma non una stretta che tende a limitare gli interessi speculativi dei privati che spesso vanno a danno del pubblico non una stretta che ci ricorda e che richiama in un certo qual modo quella giustizia sociale senza la quale non è possibile ambire alla giustizia climatica è una stretta che ci arriva a criminalizzare il dissenso come ulteriore inaccettabile mortificazione del protagonismo e del protagonismo collettivo che altro non è se non la rappresentazione di quell'interesse pubblico che in uno stato sano dovrebbe essere l'unico principio ispiratore dell'attività politica e amministrativa delle nostre istituzioni Grazie Grazie a Barbara Damiano Di Giovanni in rappresentanza della Rete degli Studenti Medi e dell'Udo e si prepara Maria Campese di Sinistra Italiana Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti è da quando sono nato che sento parlare di Ponte sullo Stretto di Messina come qualcosa che ci salverà da tutti i mali e da quando siamo nati che viviamo in una terra dove vengono negate ogni giorno prospettive e ambizioni di ragazzi e ragazze dire e ribadire oggi che il Ponte sullo Stretto è un'opera inutile che non è questo che ci serve e non è questo quello che vogliamo sarà ripetitivo ma è oggi più che mai doveroso proprio oggi le studentesse e gli studenti della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari sono scesi in piazza in tutta Italia con uno slogan semplice liberiamo il Paese liberiamo il Paese da questa destra che mette in discussione diritti che guarda solo i privati e che taglia fondi sui servizi pubblici e li vuole poi buttare con il Ponte sullo Stretto abbiamo il dovere oggi di andare oltre l'infattibilità tecnica di cui si è parlato che comunque rimane un tema da affrontare fino a ieri si parlava di alzare il ponte di qualche metro come se fosse una cosa facile di osservazioni e modifiche al progetto e anche da questo punto di vista le incertezze sono tante ma ci sono qui persone sicuramente più titolate di me per parlarne il tema centrale resta il fatto che ad oggi l'opera sia inutile e stravolgerebbe le nostre città e le nostre vite per 8, 10, forse 15 anni per essere ottimisti 15 anni di cantieri devastanti con un'incidenza negativa sulla qualità della vita sul traffico sull'impatto ambientale sull'inquinamento che farebbe scappare chiunque affossando così due territori la Sicilia e la Calabria che già vivono una gravissima crisi fortissima di emigrazione giovanile e drammatica se vogliono spendere 14 o più miliardi di euro al sud vengano da noi a chiederci di cosa abbiamo bisogno vengano a costruire acquedotti per una distribuzione dell'acqua H24 vengano a completare il raddoppio ferroviario a sistemare le nostre autostrade da film dell'orrore che si allagano spesso interamente al buio e con un pedaggio che ha il sapore di un furto quindi si investa sulla messa in sicurezza del territorio sulla prevenzione dei disastri ambientali in infrastrutture veramente utili come oggi si è detto in una continuità territoriale che si può e si deve realizzare al posto del ponte sullo stretto da Messina a Trapani si diceva prima ci vogliono 11 ore con forse 4 cambi siamo all'anno zero anche dal punto di vista delle ferrovie investano poi sul nostro diritto al futuro l'ultima legge di bilancio taglia con l'accetta i finanziamenti per l'istruzione pubblica alle scuole e alle università sono stati tagliati 115 milioni per investimenti in edilizia universitaria e grandi attrezzature altri 10 milioni sull'edilizia universitaria è stato tagliato anche il contributo affitti questa volta abbiamo solo 5,7 milioni di euro l'anno scorso con più fondi ne hanno beneficiato solo 11 mila studenti fuori sede a fronte di quasi 900 mila in tutta Italia hanno tagliato 36 milioni sul fondo integrativo statale all'università e per il 2026 si stia un taglio di 250 milioni che ci riporterà ai livelli di finanziamento drammatici pre pandemia abbiamo chiesto un miliardo di euro per salvare i posti letto finanziati col PNRR per gli studenti fuori sede sulla quale la ministra sta facendo naufragare il nostro paese rischiamo di perdere 1,2 miliardi di euro del PNRR senza mai raggiungere l'obiettivo dei 60 mila posti letto entro il 2026 i comitati il sunia le associazioni i sindacati conoscono bene la CGL la questione degli espropri e di chi vive nelle aree interessate dai cantieri ma in generale della vivibilità delle nostre città basta armi di distrazione di massa dobbiamo continuare insieme a scendere in piazza anche a Roma con la CGL nazionale insieme alle camere del lavoro territoriali alle categorie ai comitati alle associazioni ai partiti alle persone per rilanciare questa lotta a livello nazionale dalla Sicilia e dalla Calabria oggi viene un appello per tutte e per tutti noi stateci a fianco perché la prima pagina di tutti i giorni sui nostri giornali ormai non parla altro che di Ponte sullo Stretto che fa ombra ai diritti di cittadini studenti e lavoratori le organizzazioni studentesche ci sono insieme tutti liberiamo il paese dalle bugie di questo governo e liberiamoci del Ponte sullo Stretto grazie mille a Damiano anche questi sono figli che Salvini dovrebbe ascoltare invertiamo ringrazio Maria che ha rinunciato all'intervento perché ha ritenuto che quello di Angelo fosse comprensivo dell'Alleanza Verdi e Sinistra la ringrazio darei la parola a Giambiero Cioffredi di Libera e si prepara Aldo Trifiletti di Invece del Ponte Sì grazie molto brevemente credo che siamo che sia evidente che siamo di fronte a un progetto che nasce su un profilo di opacità senza precedenti e gli interventi che abbiamo sentito oggi danno il senso davvero di una eclisse di legalità che non può non portare a disastri di tipo sociale economico ambientale generando tra l'altro un varco per le mafie un anno a luglio del 2023 Don Luigi Ciotti in un'iniziativa a Bovalino disse che il ponte sullo stretto non unirà due coste ma due cosche fu aggredito dal ministro Salvini e da altri insultato per aver detto Don Luigi non parla mai a Bambera a settembre 2022 a tre mestiere tre mestiere in provincia di Messina tre mestiere tre mestieri grazie scusate a il 23 settembre davanti a un bar di tre mestiere un esponente di Webuild incontra due imprenditori legati alla mafia alla cosca di Barcellona chiedendo questo esponente di Webuild chiede a questi due imprenditori legati alla alla cosca barcellonese un grande deposito per il come dire in una zona strategica per il ponte di Messina questo episodio è raccontato in una inchiesta di luglio della direzione distrettuale antimafia di Milano coordinata dalla magistrata Luisa Silvia Bernardi e quindi c'è l'evidenza e quindi gli stessi magistrati di Milano che hanno trasmesso gli atti a Reggio Calabria hanno evidenziato la pericolosità inquietante di un esponente della Webuild che incontra due imprenditori legati a una cosca mafiosa il rischio che il ponte di Messina possa diventare uno dei più grandi affari della mafia nella storia di questi anni nel 98 una relazione della direzione investigativa antimafia nel 95 l'inchiesta contro il clan Condello del 2005 ci parlano di un interesse importante di cosa nostra in drangheta sullo stretto di sui lavori del ponte dello stretto di Messina ma non solo c'è il rischio proprio dentro le relazioni della direzione investigativa antimafia che la costruzione del ponte possa far nascere una grande direzione strategica tra cosa nostra in drangheta quindi non saranno infiltrazioni dei sodalizi territoriali di Messina e Reggio Calabria ma ci sarà e questo è un profilo in qualche maniera che emerge da alcune indagini anche del pubblico ministero lombardi della direzione distrettuale antimafia il rischio che diventi una che si acceleri il processo di unificazione tra ingrangheta e cosa nostra e naturalmente sappiamo come agiscono le mafie nelle grandi opere il ciclo del cemento calcestruzzo le cave l'uso delle cave che tra Messina e a Messina sono una provincia di Messina un migliaio rifornimento di manodopera mensa insomma tutto quello suppalti e allora penso che come dire su questo le rassicurazioni che ci arrivano non ci bastano ci allarmano e voglio concludere con con Salvini che pochi mesi fa fa su Instagram pubblica la fotografia di Topolino dell'82 che era dedicata al ponte sullo stretto pubblicando quella copertina di Topolino dell'82 ha letto la copertina ma non ha letto il contenuto esatto perché quel numero di Topolino dell'82 non è per niente celebrativo del ponte parla di zio Paperone che vuole costruire il ponte di fronte a tre soluzioni tecniche dice beh ma è impossibile alla fine decide di costruire il ponte con coralli arriva il suo antagonista che raffigura un po' la mafia costruisce il ponte il ponte cade e arrivano i turisti a prendersi i pezzi del ponte quindi se abbiamo un ministro che non è in grado di leggere Topolino figuriamoci se è in grado di leggere relazioni tecniche scientiche grazie grazie mentre interveniva Giampiero non ho potuto fare a meno di pensare a un'analisi non profonda di pancia che ha fatto Renato Zero durante un concerto tenuto a Messina che credo meriti vista perché è molto reale Aldo Trifiletti e si prepara Begal Cecilia disbilanciamoci Buonasera io sorvolo su considerazioni di ordine economico urbanistico ambientale sanitario per sottolineare due aspetti decisamente importanti che sono uno la faglia sotto il pilone di Cannitello e l'altro il recentissimo parere della commissione di valutazione di impatto ambientale ora per quanto riguarda la faglia io voglio richiamare quanto ha detto l'ingegnere De Miranda che è un grande tecnico esperto di ponti dice che la stretto di Messina continua a giocare sulla non sismogenicità della faglia ma nessuno ha detto che la faglia sia responsabile del 1908 o che sia sismogenica il fatto è che costituisce uno strappo nel sottosuolo e in caso di sisma anche da altra faglia primaria sarebbe un gravissimo pericolo poi dicono anche che il ponte è molto elastico quindi resistente ai terremoti ma questa è solo una parte della storia perché loro confondono probabilmente sapendo di farlo il ponte con l'impalcato se è vero che l'impalcato è super elastico quindi super resistente il ponte è costituito anche oltre che dall'impalcato da piloni e da blocchi di ancoraggio e i piloni e i blocchi di ancoraggio sono super rigidi invece e in caso di sisma darebbero luogo a delle accelerazioni di gran lunga superiori a quelle previste dal progetto venendo al recentissimo parere della commissione via è necessario è urgente che questo parere che le motivazioni e soprattutto le prescrizioni vengano rese note perché se queste prescrizioni comportassero delle modifiche strutturali ci troveremmo di fronte alla necessità di cambiare il progetto e quindi di cambiare anche di ribandire l'appalto pertanto è giunto il momento per concludere di dire a questi signori basta con i proclami perché ormai bisogna prendere atto che il re è nudo e che sotto la loro propaganda c'è il nulla grazie 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 Aldo allora Begal Cecilia disbilanciamoci e si prepara Daniele Ialacqua No Ponte Capo Peloro Buongiorno a tutti e a tutti e grazie io sono molto breve perché la maggior parte dei punti è già stata toccata e approfondita dagli interventi precedenti e come dicevamo ci troviamo di fronte ad un'opera faraonica di difficilissima realizzazione tecnica dispegniosa dannosa da un punto di vista ambientale e sociale e sostanzialmente inutile perché non risolve i problemi del paese e non ricuce il divario tra centro nord e meridione abbiamo bisogno di interventi ben diversi soprattutto nel campo della mobilità pubblica la legge di bilancio di quest'anno di questo governo prevede un incremento di 120 milioni per il fondo nazionale dedicato al trasporto pubblico locale ovvero il fondo che finanzia i contratti del settore e destinato al miglioramento delle reti e dei servizi del trasporto pubblico non solo questo fondo manca di una programmazione di lungo termine ma i fondi stanziati a breve termine non sono adeguati alla condizione in cui versa il settore del trasporto pubblico locale del nostro paese solo per adeguare l'andamento di questo fondo all'inflazione servirebbero 800 milioni di euro la conferenza stato regioni ne chiede un miliardo quindi si tratta di una manovra frutta di un governo che va contro gli interessi delle sue stesse articolazioni locali e dei bisogni di cittadine e cittadini il numero di addetti del trasporto pubblico locale per numero di abitanti a livello nazionale è molto al di sotto della media europea si tratta si parla di 11.3 ogni 100 contro i 16.4 addetti a livello europeo con importanti rivari territoriali a nord del paese il peso del trasporto pubblico locale è del 10% che è più del doppio di quello nelle regioni meridionali l'offerta del trasporto pubblico locale si parla di 6.000 posti chilometro per abitante al centro nord contro i 200 al sud questo perché vi è una sostanziale volontà da parte del governo di deprimere i servizi pubblici e di concentrarsi esclusivamente su grandi opere ad effetto che non risolvono di fatto ma aggravano i problemi del paese basti pensare che il governo come dicevamo prima aveva stimato per la realizzazione del progetto 11,7 miliardi di costi da qui a 2032 questa cifra è aumentata di ben 3 miliardi nel giro di poche ore nonostante ci si sia ancora in una fase puramente preliminare e istruttoria perché di fatto il ponte non c'è si tratta di un vero e proprio quindi buco nero dei soldi pubblici che assorbe risorse dello stato che dovrebbero essere indirizzate altrove il sud del nostro paese infatti non ha bisogno di un ponte sullo stretto ma di infrastrutture e piccole opere territoriali che migliorino la qualità della vita garantiscano i diritti e ricuciano le disuguaglianze sociali e economiche del nostro paese come sapete in questi giorni come campagna sbilanciamoci stiamo lavorando alla controfinanziare 2025 che è un progetto che portiamo avanti da oltre 20 anni in cui avanziamo diverse proposte mirate ad un modello di sviluppo alternativo che si fonda sui diritti il welfare e la sostenibilità ambientale e sociale la controfinanziare 2025 verrà presentata il 4 dicembre e tra le varie proposte avanzate nel rapporto di quest'anno come in quello dell'anno scorso ce n'è uno che riguarda proprio le grandi opere e in particolare la cancellazione del progetto del ponte sullo stretto che noi riteniamo un'opera inutile dispegnosa dannosa da un punto di vista socioambientale e a partire a partire dalla posta annuale distanziamento prevista per il 2025 che all'interno di questo rapporto noi reindirizziamo immediatamente al fondo per il trasporto pubblico locale che proponiamo di incrementare dagli attuali 5,2 miliardi ai 7 miliardi per dare un chiaro segnale del tipo di misure e manovre di cui il nostro paese ha bisogno e in particolare il sud. grazie 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 Cecilia di Sbilanciamoci Daniele Ialacqua No Ponte Capo Peloro e si prepara Tiziano Pesce dei Wisp Buonasera a tutti a tutti prima di tutto ci tenevo a dire una cosa all'amico di Libera io non sono d'accordo sulla frase di Don Ciotti perché il ponte non unirebbe due cosche ma venti bisogna aggiornare la cosa purtroppo visto gli studi recenti della DIA detto questo entro nel merito di quello che volevo dire brevemente perché l'ora è tarda e molte delle cose che volevo dire sono state già dette ho cancellato tutto l'intervento praticamente però volevo dire questo noi siamo partiti questa notte da Messina da Villa da Reggio Calabria con autobus alcuni col treno con la macchina perché ci tenevamo a essere presenti qui e ringraziamo la CGL per aver organizzato questo evento cioè mi sto commuovendo perché veramente avevamo bisogno avevamo bisogno grazie di questo affetto di questa direi di questo campo largo lo posso dire che forse l'unico luogo in cui l'unico luogo in cui c'è questo di questo bellissimo campo largo vedo ancora delle facce dei nostri che sono partiti stanotte alcuni mezzo addormentati pure io però sta finendo non perché mi auguro che finisca ma perché insomma l'ora è tarda ecco però ci teniamo a dire questo noi ci teniamo a essere fisicamente presenti qua perché noi volevamo portare qua la rappresentanza fisica appunto di quel popolo anoponte che nell'area dello stretto combatte quest'opera da oltre vent'anni da quando è nato Damiano praticamente e stiamo combattendo con questa contro quest'opera che rischia di essere la pietra tombale per il nostro territorio e siamo anche qui per cercare anche di far capire ancora di più a che punto è arrivata la nostra esasperazione che l'hanno già sottolineato bene Mariolina e Rossella un'esasperazione per una situazione che si protrae che va avanti un ponte un'opera che sappiamo che non si può fare che non si deve fare e purtroppo la procedura va avanti siamo arrivati all'ultima tappa di questa procedura che si sono dati come governo nella procedura diciamo del ponte e questa esasperazione è cresciuta di più in questi giorni con queste ultime due notizie tremende ma di cui appunto dobbiamo fare anzi tesoro per rafforzarci sempre di più nella lotta e la notizia l'ultima di ieri lo stanziamento di nuovi soldi per il ponte verso questo pozzo senza fondo utilizzando i fondi dell'FSC è stato già detto che vengono sottratti ulteriormente vengono rubati ulteriormente al sud impedendo di fare opere utili e invece buttando un'opera che è utile ai soliti noti e l'altra notizia è il parere favorevole della commissione via vassa al progetto del ponte un parere grottesco si dice un sì e 60 però e si dimostra così che questa commissione non ha avuto il coraggio di dire no all'opera di regime e magari a qualche referente politico grazie al quale sono lì c'era una terza notizia che non ho ammesso perché non era stata detta ed è questa ironia veramente insopportabile di Salvini queste battutine sugli uccellini che attraversano lo stretto che noi tuteleremmo eccetera eccetera io gli consiglio però di non scherzarci di rompere sugli uccellini uno perché sono 4 milioni e 7 quelli che vengono censiti e secondo perché io spero mi auguro che questi uccellini 4 milioni e 7 si ispirino al film uccelli di Hitchcock nella versione di Mel Brooks così lo scacazzano dalla testa fino ai piedi e ce ne e ce ne liberiamo una piccola cosa volevo dire sulla commissione di cui è intervenuto già Angelo e altri questa commissione è costituita attualmente da 48 persone sulle 70 che dovevano comporle 12 come è stato detto sono state nominate negli ultimi giorni la gran parte del restante 36 cioè i due terzi sono state nominate tra luglio agosto perché sottolineo questo tra luglio agosto vuol dire che non hanno neanche partecipato alla fase delle 239 osservazioni che la commissione aveva fatto e quindi al progetto quindi questi non sapevano nulla di ciò che avrebbero poi votato è consentito un'espressione tipicamente siciliana ma come i minti hanno fatto a leggere tonnellate di fogli documenti mappe scritti osservazioni in così poco tempo me lo devono spiegare e ora non vedo più Bonelli so che lui ha chiesto l'accesso agli atti farebbe bene a chiedere anche l'accesso agli atti per capire da chi è costituito il gruppo istruttore di questa commissione perché come ha detto un giornale che non è stato poi smentito il domani il gruppo istruttore della pratica del ponte è costituito da tre sempre essere costituito da tre componenti di cui due sono degli agronomi sul ponte va bene e di questi tre due sono della lega guarda caso del partito del ministro che intende fare il ponte quindi forse su questo va indagato perché questa commissione si è presa una grossa responsabilità anzi secondo me secondo noi la commissione ha acceso la miccia della bomba ponte lanciata sui nostri territori non c'è più tempo questa miccia corre veloce la vogliono fare veloce io chiudo con appunto questo appello che voglio fare noi siamo per questo incazzati neri qualcuno mi diceva ma vi siete avviliti per questa notizia della commissione via vaso no non ci siamo avviliti ci siamo incazzati che è la cosa diversa noi non abbiamo finito la nostra pazienza come spesso dice pure Mariolina siamo hanno tirato troppo la corda la corda si è spezzata basta così e allora è questo l'appello che voglio fare eh alla fine eh a tutti coloro che hanno partecipato dobbiamo disinnescare insieme questa bomba per questo chiediamo a chi ha partecipato alla Cingegna in primo luogo a chi ha partecipato a questo evento da domani o anzi direi già da oggi di convocare da oggi uno stato di mobilitazione permanente delle nostre organizzazioni contro il ponte che porti a una grande manifestazione nazionale nell'area dello stretto per gridare no al ponte sia alla vita dei nostri territori giù le mani dallo stretto grazie grazie a Daniele per la passione purtroppo la nostra il nostro paese è attraversato da allegre commissioni che hanno causato disastri non è la prima la parola a Tiziano Pesce e si prepara Silvia Giandoriggio di possibile sì grazie buon pomeriggio a tutte e a tutti grazie alla CGL alle associazioni ambientaliste alle organizzazioni con cui condividiamo come WISP l'esperienza all'interno del manifesto alla via maestra a partire dalla Confederazione Arci al coordinamento no ponte poi Libera la campagna sbilanciamoci tutte reti ampie che vedono la partecipazione di WISP ovviamente i partiti politici oggi intervenuti direi ai giornalisti e le giornaliste perché questa è un'alleanza veramente fondamentale come non mai grazie a tutti a tutti ma WISP come sapete è un'associazione di promozione sociale sportiva lo dico con orgoglio una delle più grandi reti nazionali e quindi non può che mettere attenzione è un preciso dovere nostro non può che mettere attenzione sui temi che oggi affrontiamo in questa sala per essere poi un'organizzazione di cittadinanza attiva che ha una identità ben precisa all'interno del panorama del terzo settore italiano un'identità fissata nel nostro statuto di un'associazione antifascista antirazzista ma che opera ogni giorno per la sostenibilità ambientale per la tutela dei beni comuni per il benessere e la promozione della salute dei cittadini delle cittadine per la dignità umana per i diritti civili e sociali di tutti per la solidarietà contro evidentemente ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza e ovviamente come spesso ricordiamo con la bussola degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 che abbiamo visto ancora nelle scorse settimane grazie al lavoro dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile abbiamo visto quanto lavoro c'è ancora da fare e facciamo tutto questo con la rete dei nostri livelli regionali territoriali quindi nello specifico un ringraziamento ai comitati regionali WISP della Calabria e della Sicilia in particolare col Presidente Enzo Buonasera e oggi qua in presenza anche il Presidente del Comitato WISP Messina Santi Cannavò che segue sin dal primo momento questo percorso al centro di un'associazione come la WISP evidentemente i territori le persone di fronte un'opera lo avete detto tutti e lo abbiamo detto tutti oggi che contrasta pesantemente per non usare altri termini con i veri bisogni dei cittadini di questo Paese a partire evidentemente da quelli siciliani e calabresi diciamo anche noi no con forza al ponte per dire che le risorse pubbliche e le politiche pubbliche che portino attenzione per contrastare lo spaventoso dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio c'è bisogno di migliorare l'infrastruttura lo avete detto stradali e ferroviarie c'è da mettere attenzione al trasporto pubblico locale c'è da mettere attenzione incentivare quelle grandi esperienze che spesso nascono anche all'interno di progetti sportivi sul tema della mobilità sostenibile sul tema della rigenerazione urbana c'è bisogno di tutto questo per valorizzare un inestimabile patrimonio ambientale e culturale c'è bisogno anche questo lo abbiamo sottolineato tutti con forza c'è bisogno di un rilancio delle politiche sociali delle politiche di prossimità di una sanità che sia davvero pubblica e universalistica di una scuola che sia degna di questo nome della gestione dell'acqua pubblica di tutti i servizi che ancora una volta sono minacciati dall'autonomia differenziata e sono minacciati da crescente disuguaglianze tra nord e sud ma non solo fra centri e periferie anche del profondo nord e non da ultimo e vado velocemente a chiudere ovviamente per quello che è il nostro osservatorio attenzioni allo sport sociale allo sport di base ci sarebbe bisogno di grandi attenzioni anche di risorse ben diverse per accompagnare quel nuovo ingresso di cui tanti anche rappresentanti del nostro governo centrale ma direi un po' di tutte le amministrazioni tutti i livelli ricordano da poco più di un anno penso all'inserimento di quello straordinario nuovo comma all'articolo 33 che riconode la costituzione che riconosce il valore sociale educativo di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e ogni giorno manifestiamo e ravvisiamo nuove carenze nell'accessibilità allo sport all'attività fisica motoria per tutte le età c'è un rischio sempre più alto di deprivazione sportiva noi come UISP abbiamo voluto mettere accanto alle transizioni digitali la transizione ecologica la transizione demografica anche un concetto di transizione sportiva ci sarebbero tutte le possibilità guardando anche allo sport di matrice europea per valorizzare il ruolo dello sport e dello sport di base in riferimento alla salute all'inclusione sociale la coesione delle nostre comunità all'ambiente al sostegno anche al lavoro e all'economia noi ci siamo e grazie ancora a tutti grazie Tiziano Silvia Giandoreggio di possibile poi abbiamo l'ultimo intervento che ho io che è Musolino Enzo Buon pomeriggio a tutti io parlo a nome del mio partito ma sono anche in veste di cittadina regina e architetto e sono anch'io una vittima indiretta degli espropri perché i miei committenti a cui avevano affidato un incarico di progettazione di riqualifica di un immobile per adeguamento sismico ed efficientemente energetico hanno le particelle le loro abitazioni che ricadono su particelle oggette di esproprio quindi io ho perso la possibilità anche di riqualificare e fare un lavoro il mio lavoro per la comunità e posso capire perfettamente come ci si sente quindi per me per possibile il ponte sullo stretto questo è un contratto a tempo determinato che aiuterebbe le aziende del paese solo nel breve termine perché non interviene su problemi strutturali che impediscono agli imprenditori di avere i servizi territoriali adeguati per radicarsi e espandersi e quindi non offre prospettive di sviluppo nei settori strategici di cui noi abbiamo bisogno non risolve la disoccupazione endemica presente nel meridione non compensa l'aumento dei letti vuoti nelle case delle famiglie calabrese siciliane e non consente il ritorno dei giovani fuori sede come me costretti ad emigrare per ottenere maggiori opportunità solo che io sono tornata il ponte è l'ennesimo palliativo datoci che nasconde l'incapacità governativa di mettere in atto una progettualità sistematica su più livelli è evidente è lacunoso l'agire del governo sull'ordinario e sui settori strategici nelle nostre regioni non è con una incompiuta nel deserto che si risolvono i problemi strutturali di due tra le regioni più povere d'Italia che necessitano di interventi sui principali settori economici non risolve la mancanza di reti viari efficienti la mancanza di opere di primaria necessità l'emergenza idrica il dissesto l'adeguamento sismico degli edifici appunto e il loro efficientamento energetico e dell'Europa che ce lo chiede non risolve il problema delle periferie e delle province sconnesse senza infrastrutture adeguate e non fermerebbe il turismo sanitario dei calabresi e dei siciliani per andare a curarsi negli ospedali del nord in mancanza di strutture efficienti e codeli clinometriche nelle liste d'attesa degli ospedali non aumenta la crescita turistica del nostro territorio che è lacunosa di servizi adeguati al turismo che enfatizzano le bellezze naturali del nostro territorio come possiamo fidarci noi cittadini se siamo testimoni dei cantieri trentennali delle autostrade delle ferrovie non ancora compiute di un'opera da record che è così rischiosa cosa ne è di un tessuto costiero di un tessuto urbano di opere immobile espropriati per le opere anche temporanee del ponte perché dovremmo essere d'accordo come cittadini italiani con una cultura così legata alla conservazione e al recupero dell'esistente come possiamo essere così favorevoli alla demolizione di chilometri di costa per questa infrastruttura perché regalarci l'ennesima opera incompiuta e impattante che causa danni ambientali irreparabili viviamo appieno i rischi del climate changing testimoni sono le ultime alluioni sia in in Sicilia che in Spagna e in Italia aspettiamo aspettano per esempio in Emilia Romagna ancora gli aiuti dal governo come si può pensare di operare su un fazzoletto di terra così fragile e soggetto a vulnerabilità sismica e erosione costiera che è ancora più grave rispetto al dissesso idrogeologico perché il mare mangia la spiaggia mangia la costa che è ancora più grave quindi io mi chiedo se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi ma sicuramente non è da un ponte da soli 20 minuti di attraversamento che possiamo pretendere di cambiare le sorti delle nostre due regioni grazie Musolino Enzo scusate sarò molto breve però penso che bisogna aggiungere anche qualche documento allora abbiamo scritto ci hanno risposto abbiamo scritto da Villa San Giovanni al Ministero dei Trasporti e gli abbiamo chiesto caro Ministro ci dici quanti sono le navi che oggi non domani quando il gigantismo navale già in progettazione e attivo nei cantieri supererà i 90 metri di altezza delle navi ci dici attualmente quante sono le navi che passano sullo stretto superiore a 65 poi abbiamo scritto alla più grande compagnia navale del mondo e gli abbiamo fatto la stessa domanda il Ministero ci ha risposto ecco qua e a disposizione di tutti della CGL in primis che ringraziamo per questo bellissimo evento e ce l'ha detto ci ha dato i dati della Capitaneria di Porta anno 2023 sono 20 le navi tra turistiche e porta container che passano per lo stretto non ci hanno dato i transiti gli abbiamo chiesto i transiti che sono molto di più ci hanno detto soltanto il numero delle navi attualmente che passano sullo stretto più volte l'anno ci sono 20 navi che non passerebbero sotto il ponte e la più grande compagnia navale del mondo ci risponde all'email poi se ne sono pentiti i poverini perché l'abbiamo pubblicata subito ma siamo un partito politico per noi funziona così siamo il circolo PD di Villa San Giovanni e ci hanno scritto gentile signor Musolino le nostre navi che al momento sono le navi più grandi del mondo potranno passare sotto al futuro ponte di Messina a condizione che l'altezza minima dal livello del mare sia almeno di 65 metri a questa altezza va aggiunto un ulteriore margine per compensare l'oscillazione verticale del ponte e l'eventuale moto ondoso attualmente il progetto sul ponte di Messina quello definitivo ci dice che il fronte navigabile a condizioni ottimali quando passano le navi quando passano i treni e quando passano le macchine è 65 metri non stanno costruendo un ponte stanno costruendo un muro grazie grazie allora a me resta solo il compito di ringraziare tutti per questa bellissima partecipazione con due cose un auspicio spero di non vedere nelle prossime ore risposte da parte della società sullo stretto o del costruttore perché dalle mie parti ai bambini insegniamo che all'oste non si chiede se il vino è buono e neanche se ci ha messo l'acqua vogliamo che risponda il pubblico delle perplessità che abbiamo vogliamo che il pubblico garantisca quello che sta succedendo secondo uscirà nelle prossime ore un documento di questa iniziativa dove lanceremo le tante mobilitazioni vi ripeto saranno più di una se ne sarà una sul territorio calabrese una siciliana una grande manifestazione a Roma sotto il Mise poi vedremo come muoverci rispetto all'Europa anche con l'aiuto degli europarlamentari che erano presenti la cosa che vi possiamo garantire che non ci fermeremo ma fermeremo loro andiamo avanti così e grazie a tutti grazie a tutti